Ciao a tutti, ho appena finito di leggere il libro scritto da Jonathan Galassi dal titolo La Musa edito in Italia da Guanda. Jonathan Galassi di professione fa l'editor, è un editor d'oltreoceano americano e anche di un certo spessore visto che vanta tra le fila degli scrittori che lui ha pubblicato personaggi del calibro di Jonathan Franzen, Mario Vargas Losa, il nostrano Roberto Saviano e Michael Cunningham. E con questo libro Jonathan Galassi sperimenta la posizione dello scrittore perché essendo un editor, presumo per quello che comprendo e capisco del mondo dell'editoria, come editor tu ricevi in genere i manoscritti degli autori, li valuti, li valgli e eventualmente insieme agli autori stessi li correggi, li sistemi, li smussi e li prepari per la pubblicazione e la distribuzione presso il grande pubblico. Invece Galassi spostandosi dalla parte dello scrittore cambia cappello e cambia mansioni e si addentra nella narrazione di una storia. Una storia ambientata in un ambiente, passatemi la ripetizione, che lui conosce molto bene che è quello dell'editoria in particolare americana e struttura la storia attorno a una figura molto importante della poesia americana di cui io non conoscevo l'esistenza fino ad oggi che è da Perkins, morta tra l'altro di recente nel 2010, un cinque anni fa, e vincitrice di numerosi premi letterari Pulitzer e comunque dell'ambiente letterario americano e non solo. La storia in sé è affascinante e io sono stata attirata da questo libro grazie anche alla presentazione che è stata fatta quando è stato lanciato sul mercato italiano. Infatti è stato presentato come un libro perfetto per chi ama la letteratura, per chi ama leggere i libri, per chi è incuriosito e affascinato dal mondo dell'editoria e in effetti è stato proprio questo che mi ha attirato e mi ha fatto acquistare il libro per leggerlo. Però devo dire che al di là del fatto che il libro, per quanto possa esprimere io un giudizio da lettrice, è molto ben fatto ed è molto interessante, secondo me soffre un po' della formazione, del background un professionale dello stesso Galassi, che in qualità di editor rivela, secondo me, alcune macchinosità che grippano un pochino la fluidità narrativa del romanzo. Perché il romanzo, nella prima parte, io ho fatto un po' fatica ad accettarlo, assimilarlo e a farmi trascinare dalla storia, perché ha un andamento lento, ogni tanto intercalato da un proliferare di dettagli, anche storici, di nomi, di luoghi, di persone, dell'ambiente letterario americano, che se non sei un profondo conoscitore, ti può fare perdere anche il filo della storia, ti può fare smarrire in mezzo a una serie di dati e di citazioni. Per poi arrivare al 60-70% dell'avanzamento del libro, dove subisce un'improvvisa accelerata e la storia comincia a scorrere, diventando anche a tratti molto veloce e chiudendo anche dei capitoli in maniera un po' affrettata. Quindi ho trovato, diciamo, un po' un andamento discontinuo, che ha fatto, secondo me, mi ha fatto un po' soffrire, tra virgolette, la lettura di questo libro, che comunque è molto interessante, perché appunto ti racconta i retroscena della vita delle case editrici americane, in particolare lui si concentra su due case editrici indipendenti americane, che sono la P&S di Homer Stern e la case editrice Impetus Edition di Sterling Wainwright e si concentra sulla figura di Paul Dukac, che è la figura centrale, profonda, conoscitore e amante della poesia di Ida Perkins, che è un po' il filo conduttore di tutta la storia e che è anche colui che poi, diciamo, va incontro anche fisicamente a Ida Perkins, conoscendola e avendo un dialogo con lei. Ma non voglio anticipare nulla per chi vorrà poi cimentarsi nella lettura di questo romanzo. Quindi è un libro tutto sommato affascinante, interessante, è bello il capitolo che parla anche della fiera del libro di Francoforte, dove ti racconta tutto l'ambiente letterario, degli editori, di come si comprano gli scrittori, degli agenti, di tutte le pedine in gioco, delle grandi cene, delle mega sbronze collettive, degli intrallazzi vari. È bello anche quando descrive gli ambienti anche WASP, che significa, se non erro, White Anglo-Saxon Protestant People, cioè la classe benestante new yorkese letteraria e letterata, che si trova in queste case nelle zone di Long Island, piuttosto che in altre zone simili e dissertano di letteratura, scrivono poesie, scrivono libri. Ci sono queste parti che sono molto belle, però ci sono altre parti, secondo me, del libro che rallentano e rendono un po' macchinosa la struttura narrativa, per poi avere, come avevo anticipato poco fa, un'improvvisa accelerazione dalla seconda metà del libro in avanti verso la fine. Che dire, è un libro che comunque curioso, comunque interessante, sicuramente la sua peculiarità e la sua qualità e la sua, diciamo, chiave di volta sta proprio nell'autore, che essendo uno del mestiere, vivendo dall'interno l'editoria, è in grado di raccontarti come stanno veramente le cose e quindi è estremamente interessante conoscere in chiave più o meno romanzata come sono i giochi più o meno all'interno tra, all'interno del mondo editoriale americano, tra editori, autori e agenti. Resta purtroppo questa piccola pecca, secondo me, per come l'ho letto e l'ho vissuto io il libro, di questa forse eccessiva macchinosità in alcuni punti. Io a questo punto sono curiosa di vedere se pubblicherà altri libri e se li pubblicherà come saranno, per capire se questo suo modo di narrare un po' di dascalico, un po' macchinoso, è un semplicemente un episodio a sé stante di questo libro, vuoi voluto da il tipo di argomento di cui sta scrivendo piuttosto che da altre esigenze o perché è il suo primo libro come romanziere, oppure se effettivamente una sua caratteristica di scrittura, una sua caratteristica narrativa. Quindi se volete leggere un libro che entra nel mondo dell'editoria anche con una certa fedeltà e una certa cronaca diciamo veritiera, la Musa di Jonathan Galassi, ripeto edito da Guanda in italiano, è una buona occasione anche per farsi un po' una panoramica di tutte le figure, alcune per lo meno figure principali della letteratura americana contemporanea. Tra l'altro il libro chiude anche con una piccola bibliografia che può essere utile sia delle poesie di Ida Perkins sia di altre pubblicazioni collegate all'opera di Ida Perkins che ti fanno capire, primo, che i personaggi coinvolti sono reali e secondo ti consentono di andare ad approfondire l'argomento se gradisci e se vuoi andare a capire e a conoscere di più di un certo tipo di letteratura d'oltreoceano. Io mi fermo qui e ci vediamo alla prossima video riflessione con un altro libro. Ciao a tutti e a presto!